Bentornati ragazzoni con il vostro amice è la Memmi. Allora voleva dire un attimo una cosa tanto per... secondo me si sente un po' disadattata dato che da un po' che non facciamo video è passato più di un mese circa. Allora si sente un po' più timidina. Posso? Scusate ma sono stata tanta malata. Cosa hai avuto? Giochiamo? Vabbè dai allora oggi siamo sulle nevi quindi bisogna stare attenti al sol aspetta basso un po' l'audio perché sennò voi sentite la manetta. Allora ho paura del pagliaccetto qua perché ho... Allora piano eh? Ok? E adesso? Sto qua però mi fa... Oh! Ok! No! Che coglione che sono! Allora... Tanto per provare eh? Ah ok! Madonna mia è venuta fuori un'implosione di galline eh? Eh ma tanto la metto perché ha visto i frame per secondo ma tanto la metto la webcam quindi... Vabbè... Vabbè... Allora... La... Ok... Sei partecipe o sei tipo un vegetale? Vabbè ragazzo dai! Aspetta allora qua... Senti mi si fai di uccidere o cosa? Eh no bisogna... Qua cosa c'è? Uh! Una bomba! Nice! Fana c'è il massimo dell'intelligenza cosa? Ah ma ascolta un attimo come faccio io sapere se c'è qualcosa di buono o no qua dentro? Ma che si faccia qua? E' quello di salta! Questo qua si prende giusto? Ok si prende qua questo qua... Ma che c'è un igloo? Non so aspetta un attimo voglio vedere... Ah forse... Eh eh eh... Eh ma voglio vedere un attimo cosa... Eh si ok però se lo metti... No! Ok cosa che fa? Jump machine che usi due double già... Ah quindi possiamo lanciare il fungo e saltarci sopra durante il salto... Proviamo... Credo che è un po' complicato... Oh basta basta... Eh lo so... Aspetta qua... Saltiamo... Ti aveva detto di lanciare il fungo e saltarci di sopra... Eh ma non pensavo che un igloo fosse così... Allora qua c'è la palla... Ok... Lì c'è la gallina... E qua c'è il mushroom... Quindi ma semplicemente se noi facciamo così no? Ok boh... Eccolo lì... Cosa che ridi? Aspetta... Ah e qua forse allora... Aspetta... Come fai scusami a lanciarmi e saltarci con te... Non lo so devi imparare un po' Aspetta allora... Ah così... Ok aspetta quindi... Fammi provare di nuovo... L'ultima volta... Ok... Uh va bene... Non è difficile... Aspetta eh... Adesso... Ok devo farla adesso... Vediamo... Vediamo la sua difficoltà... Ah 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 ah... Era tutto concentrato sul saltarci di sopra... Ragazzo non neanche ho premuto il tasto per lanciarlo... Dimmi te che è pogliacissimo... Che sono... Aspetta... Qua... Devo... Ok... Uh... E adesso... No... Mi serviva anche qua... Ah e lei mi dispiace... Troveremo il tuo melone in una nuova vita... E perchè c'era la bomba? Ah no aspetta C'era anche la bomba No 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 Mitch c'è arrivato Mitch Sentiamo Adesso vedi e ti mostro Allora c'è arrivato Mitch Allora aspetta Ma che non ci sento Ma che è insensibile No ma stavo parlando con la webcam Ah parlavi con la webcam Aspetta allora Ok No ok dovevo lanciarle in mezzo Mi serviva per dopo il funghetto Vedi adesso ti mostro Allora Non voglio far diventare l'episodio Di un'ora cazzo però dopo tagliarla 15 minuti solito devo muovermi Però è già la terza volta Adesso ti mostro Guarda se voglio fare così Poi lanci i poveri Una gallina in mezzo E poi andai di là con quel funghetto Vedi Mitch Sì Allora aspetta No ok Mi sa che ti hai dimenticato di sta roba qua Perché devi saltare E salta Ok Alla posto Allora si lo faccio Non lanciare il funghetto Non lanciare il funghetto Ah no devo sapere Perché Ma perché fanno questa cosa Non lo so Perché ho paura che dovevo portarmelo di là Spero Ma vaffanculo dai cazzo Ma chi è Ce l'ho sfiorato con l'unghia del pollice Il mignor Mignor Ok E adesso Ok Oh La Questo qua cos'è Sai cos'è questo Sono quelli che vende Mastrota anche per la televisione Hai visto? Che prendi l'acqua E tramite una cosa dentro Fa venire fuori tipo frizzante Ah si si l'ho visto No davvero è? Sì è vero esiste sta cosa Ah quindi Era perché hai premuto quel robo Congela No Quindi congela E Non più adesso 1 2 3 secondi cazzo Ce la fai eh però Allora Devi muoverti però Ma è la prima lì che devo saltarla o no? Perché mi ha dato sempre qua? Perché Devi pensare Ok non bisogna saltarla subito per lì Bisogna saltarla Non devi pensare Devo pensare Scusa Allora tigra ti qua Dai non sono un cane cazzo Ma aspetta allora Dai Dio santo Ok Ok stavolta ce la facciamo per forza Eh boh E cosa la sopra Cos'è che fa adesso? Sbaglio Già è da Ok Quindi Adesso non puoi più usarlo Perché non puoi più usarlo dopo una volta? Perché non puoi usare solo una volta Tocca di far tutto Si Non salta Eh Devo comprare una tastiera nuova Ecco ho sbagliato Vedi Sei tu che non salti o hai la tastiera che non salta? Allora 2 Ok vai Il braccio Allora aspetta un po' Sì io tipo La lancio di là no? Può essere No Come no? Perché la devi lanciarmi no? Incendimi sta roba Aspetta Io faccio tipo Ma perché? C'è tutto questo Perché? No proprio non si ricongela più C'è neanche se ci va sopra una oca Una gallina blu O un'altra Cosa ho fatto? Aspetta Credo che ti arriva l'altra Allora io per forza devo andare Eh Devo buttare lì la gallina Ok dai Spine nel culo Allora Ok da qua Prendiamola Bella ricorsetta E Zompa Oh Ma vai Ascolta Mi viene da dirle ste cose Devo stare attento Devo dire parolacce Dicono Ecco Guarda che non ce la faccio adesso Perché Mamma mia Il culo No Ok Così Proviamo a fare un saltino E No Mi faccio il saltino Allora aspetta eh Via gallinellina Uh Forse Non ce la facciamo mica poi Sì Ah il pescatore Ah lo sgambellino Tipo quello di mio nonno Non ti ricordi Vabbè Se ti ho privato sopra Io ho saltato di sopra Ok Allora Non ha saltato meglio Allora aspetta di così Così Maffanculo Che faccio Che faccio Flash Allora Così Così Di qua Maffanculo Cos'era un misto italiano e inglese Maffanculo Ah Niente Aspetta un po' Quella una grigia sopra Si può prendere Che è colore diverso 513 vite Non so Se avete Visto Cos'è qua Non andare dentro Dai mi ispira Dai no Mi ispira Posso Dai provo No Va bene Vabbè Hai visto Hai visto Adesso ti ritrocca farti tutto Ah che è semplice Dai 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 Si ora lancio la sopra Ah Quindi se noi ci facciamo prendere Tipo Almeno usiamo la sopra Non so perché Ma la gallinella Mi 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 fa capire Che tipo Dobbiamo usare anche lei Allora Proviamo a farci prendere Vediamo eh Ok Un po' Più in qua Aspetta Mamma mia Lento Ok Qua Ok Asso Saltiamo di qua Questa qua Si può prendere Ok Si può prendere Adesso Non so Non c'è la lancia Adosso Provo lanciarla Adosso Ok Mamma il culo Aspetta Torniamo sopra Però voglio cercare Di tirargliene in testa Dai Ok Aspetta un po' Se noi ci facciamo Non so se noi ci facciamo lanciare Non so Lei Eh ma si sposta lo stesso Forse Ah ma aspetta Lei si sposta Adesso non so se come farvi capire Tutto in fondo di qua Quindi se noi Da l'assaltiamo Sopra lei Già di là E non lì In centro Riusciamo Ma proviamo Che è stupido sto gioco Però da ragionarci su E mica Una che cagata Allora Devo lanciarlo Più o meno al limite Per fare un bel salto Quindi Facciamo così No Fin qua No Ok No Stai da Stai da No 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 Ho lanciato Mamma La proezza Questa qua è la proezza Di mici Che capita Una volta ogni morte Del papà Allora Aspetta No No Aspetta Ok Ok Pianito Il mio cubetto Aspetta Allora Piano eh Ok Che pallosa però che Dai fammi fare Sta cosa Cazzo No Qua Va bene qua Ok Oh 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 no Dios Secondo me Deve andare da quella Per me devo lanciarla da sopra E dopo gli salto sopra Sicuramente Adesso provo a vedere Se riesco così Vediamo Ormai mi sono un po' abituato Stavo dicendo ormai mi sono un po' abituato Stavo dicendo ormai mi sono un po' abituato a fare sta zona qua Perché basta saltare così Salti di qua E vai di là Donna Oh Lascia lei Prendi in giro Cazzo Ciao La città Sì Sì La città La lancia da qua Io vado sopra Prova Prova Non ce lo puoi portare su lei Visto che la città è così tanto gentile Che si sposta anche Eh Non l'ho capita questo Mi piace come incia Nios Mi piace tipo una musica scrima del suo passato Perché per Forse Forse Speriamo perché veramente non lo posso più Allora Sì Grandissimi cazzo Quindi abbiamo questo E poi l'altro Due E forse il boss finale Spero perché non so Mari voi che l'avete finito Ditemelo perché Sto andando via di testa Lei Non ne poteva più È da un'ora che stiamo facendo sto coso Cazzo Senza aiuti Senza niente Eh Ragazzi Allora se video di oggi vi è piaciuto Vi siete tanti Buongiorno in giù Commentate E condividete Ciao a tutti E alla prossima Ciao 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 Ciao